In questo momento possiamo dire che sono al terzo invito perché nei due precedenti ho avuto risposte da parte di Green Factory però sempre diverse, sfuggendo quindi alla volontà reale di fare un dibattito. Da parte dell'associazione diversamente sto ancora cercando di avere una risposta scritta, concreta su quello che vogliono fare. Quello che a noi dispiace, anzi delude molto, è che queste parti, sia l'associazione sia Green Factory, dicono che sono disponibili al confronto. Ma questo ha parole, bisogna tradurre queste parole in concretezza e questo non sta avvenendo. La nostra popolazione ha bisogno di sapere, quello che poi se vuole ci fa anche arrabbiare, è che l'amministrazione comunale di fronte al fatto che il convungimento della gente è essenziale nella trattazione di un argomento di questo tipo, non fa niente. L'unica cosa, loro si erano impegnati ad ottobre con una mozione che è stata approvata, che chi vuole gliela mando, dove loro dicevano espressamente che si impegnavano nella più ampia informazione e partecipazione istituzionale e sociale. Ecco, di tutto questo si è tradotto con una videoconferenza a dicembre, dopodiché non è più successo niente. Noi siamo disponibili anche a fare un passo indietro, a che organizzino loro questo dibattito. Tra l'altro gliel'abbiamo anche chiesto a gennaio, con un'interrogazione. Perché non lo fate voi? Loro hanno detto, noi abbiamo già fatto a dicembre. Ecco, questa è la posizione della nostra amministrazione, la sensibilità. E noi siamo ancora fiduciosi che le due parti, sia Green Factory che l'associazione diversamente, vogliono sedersi a questo tavolo. Perché questo è dovuto alla gente. Dobbiamo rispetto alla nostra gente. Non possiamo distaccarci da questo. Dobbiamo rispetto alla nostra amministrazione, la nostra amministrazione. Grazie a tutti.